e ciao ragazzi sono alcrizerio oggi siamo insieme a jacopo ciao e a cio per fare e va bene per fare la random skin anime challenge con più penitenze da fare come non lo sai che no no e ma come facciamo che asimino facendo fare allora aspetta saranno se la lobby vabbè allora allora cambio allora cambio di programma fra ma fluenza c'è troppa gente andiamo qua andiamo qua andiamo qua facciamo una bella cosa prendiamo due armi aspetta 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 l'idea un'idea un'idea fra l'ho già trovato l'arma epica perfetto praticamente no no ci sono un nemico cavolo ok ci sono un ucciso uno ci sono no faccio un nemico da me ok io metto ma 56 1 ucciso l'altro io posso avere le armi se voglio ok ho ucciso l'altro fra mi son fatto tutto il clima mi son fatto tutto il clima solo e chi ama chi ama chi ama chi ama chi ama chi ha detto vabbè ma è meglio di emilia di un calcio il calcio nel calcio nel sedere per su altre persone mi stanno guardando perché le ammazzate tutti tutti un tempo e li ballo pure in faccia perché sono pro andiamo al cavo no raga ma non lo vogliamo di mamma ed è meglio infatti una cosa è meglio è vero io voglio farlo ma è regali andiamo a fluenza andiamo a fluenza ma intanto due persone mi stanno guardando perché penso che ci vogliono vedere qua quando muoio e ci godono secondo me perché gli ho ammazzato un team intero con un pompa no pompa blu eh f... ma lo sai che erano botto una bistante 1 mi ha quasi fatto headshot raga ma secondo voi c'è qualcuno ancora c'è qualcuno al bunker no raga nessuno è ancora andato al bunker eh? nessuno è ancora andato al bunker ok si si frane non l'hanno ancora aperto non l'hanno manca aperto la cassa vedete no no fra credo che c'era qualcuno no no fra credo che c'era qualcuno no no fra c'è qualcuno al bunker beh io ci metto un... poi non c'ho niente io c'ho una mitaglietta aspetta no raga hanno aperto il bunker no raga le hanno proprio fatto il tutto distrutto uccisa uno no no tua mamma no raga io sto sguadendo perchè la speciale non è in più in più no raga dovete venire raga ci sono un po' tutti gli armi epiche no raga no raga quelle amiche è morto per forza abbiamo fatto il 126 dai dai se si 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 ragazzi un è morto un è morto venita il bunker non c'è nessuno un è morto ragazzi io non c'è nessuno non c'è nessuno c'è stato un bot c'è stato un bot dai venite velocemente sì sì le cure non valgono ci sono delle armi epiche eppure c'è un nemico da ammazzare che l'hanno ammazzato il bot però almeno nel cavo perché c'è un'arma epica vieni da me al bunker che c'è un nemico morto che avrà un po di armi buone se dimmi non è molto convinto ci penso mannaggia sta torretta che fa un botto schifo no vabbè sta torretta vai guarda 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 vedi che ci sono un botto di armi epiche guarda mi prendi una mitaglietta per me quella con il perino che so forte le impulso le devi per forza tenere a che servono per scappare e non ce ne sono no non ce l'ho l'avrà preso il camper ui pacco regalo pacco regalo al posto dice no no adesso non adesso eeeh vabbè 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 ah facciamo una cosa aspetta facciamo una cosa l'arra è mia però ah vabbè mi puoi dare la metaglietta con la metaglietta io ho il mirino oh che zero con la metaglietta no io ho è l'altra 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 io prendo la metaglietta io uso la metaglietta col mirino col mirino e basta vai vabbè c'è pure un nemico scatto ah gli amici di quelli che ho ucciso che praticamente eh vabbè c'è un altro vai 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 è fra è caduto a terra è la panacella eh mamma mia mi hai visto la rinuncata la stessa posto qua eh sempre se adesso adesso dobbiamo fare un obbligo cattivo no no non per forza e fra è obbligazione a fare un obbligo cattivo ah vero è però è ma perché a me ero no no posso decidere ccc ccc potrei avere dei colpi potete avere dei colpi che non ne ho sì 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 allora ci è lo ci sono ci sono per farlo ccc eh dai 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 di vita ma non si è già aperto 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 ma non si è aperto la stampa di video no! no! no rega con quale legge della fisica no no rega voi non potete capire cosa ho appena fatto era andato sulla zipline era andato era andato rega sulla zipline e non c'era la zipline what? no! mi stanno sparando sti cinesi vabbè è un botto, è un botto, è un botto il problema è che ho poca vita no no lo ci do io un botto al pedale ammazza tu? vieni si mi ha un'unica vieni si 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 vieni non lo prendiamo epico siamo tutti a posto per 30 anni oh però è lontano oh vabbè oh mi parla pure vai 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 partì vai 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 appena ci arriviamo secondo me è già epico no dai veloce fra mitzga non stai manco guidare si che sto guidando veloce dai fra mitzga fra si diventa blu non ne ho ne metto almeno non ne ho almeno non possiamo prenderlo è vero vedremo per ballare cosa stai facendo? mizzi che lo sai che ci lo sai Ciro che la skin che hai è stata la mia season preferita? eh perfetto le cure lo spas le cure io ne ho uno io ne ho uno io ne ho uno no io ne ho uno no io ne ho uno vabbè no dai ma no dai non mi son manco curato ci ho mi sono messo bellissimo per ora circa io lo sono messo bene di colpi io mi servo colpe fuggire assalto e pompa si 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 aspetta vabbè è fuggire assalto andiamo alli no raga andiamo all'isola e siamo all'isola e siamo full ma lo sai che potremmo fare ragazzi anche obblighi buoni dicendo puoi usare le armi tipo un esempio subito ok obbligo agli acciopo ma io non ho fatto obbligo a te no l'hai fatto te a lui ok ti obbligo a ma devo essere aspetta ci dico la cosa gli obblighi non possono essere le che no però e infatti poi so che alcune volte sparano anche delle armi epiche raramente vedete ragazzi armi epiche avevo ragione porco schife no no ti obbligo a morire no non succedi ti muori dalle dalle persone oppure aspetta oppure è vicino a vicino ai miei no no dai non lo facciamo non lo facciamo non lo facciamo perchè non lo faccio oppure ha detto che non lo faccio l'obbligo e lui si lamenta pure no no ma ci dico solo che è stato dovevo fare gli altri ehm si si andiamo qua qua c'era un nemico se non mi sbaglio se ho visto vero si si un nemico qui un nemico qui vuoi voglio usare un altro di sei tranquillo li ammazzio io ammazzato ma chi mi ha stilato la kill ok jacopo jacopo ti obbligo a fare una skybase e e cadere eh così ti impari a stilermi la kill no 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 ragazzi sti qua sono dei fenomeni sti qua sono dei fenomeni sd lua ooooo magaa aaaah le spreda a sinistra ehh non so manco doveva la sinistra sb se scherza c'è c'è ah in 2 In due, in due Scappaci, scappa Kichino Scappa Yaccio Aspetta, aspetta, fermo, fermo Aspetta, fermo, fermo Cioè, aspetta, aspetta, Jacopo, fermo Fermo, fermo Adesso tu aspetta Eh, c'è un amico pure C'è un amico Sì, mamma Ok, frate, adesso tu lo sai cosa fai? Ma tu adesso Tu Ti obbligo Ti obbligo Che devi andarmi a prendere la scheda In 5 secondi a partire da adesso Ti do 5 secondi Ah, ti obbligo prima a prendere la mia scheda Vabbè Eh, ti obbligo Mi dispiace E l'obbligo Vai Ti obbligo Ti obbligo a non fermarti mai Andare a prendere la scheda Ti devo andare Adesso Non andavi a sparare Eh, vabbè Sì, però Potevi anche fare il giro Ti obbligo a scappare Ti obbligo a scappare Grazie Ti obbligo a fare il giro Andare a prendere la scheda Infatti No, ma arriva Buona poste Si ristra Si ristra Si ristra Non so se dove si Mi capisco 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 Sì, spera 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 Attento Davanti a te Devi stare attento Lo sai che cosa potessi fare Una cosa È una cosa È una cosa È una cosa È una cosa Però potessi Restarmi adesso E potremmo aiutarlo Ora su Ti ho Devi restare in questo devi essere in questo in questo tu resta tu devi lasciare tu devi lasciare ti obblivo che se qualcuno ti spara di continuare a stare no vabbè vabbè ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima bella